buongiorno buongiorno amici e amiche del canale buongiorno dal vostro nick juve buon pranzo a tutti mi raccomando iscrizione al canale quelle sono fondamentali sono importanti like anche a questo video e condividete il più possibile oggi ormai escono come i funghi ormai diciamo che bene male sempre a seconda del momento dell'evento i funghi porcini escono per dare delle fronzate delle cazzate no e giustamente chi doveva uscire chi mancava all'appello da anni dopo anni anni di vacche magre e di minchiate e dopo l'anno scorso che ho avuto come omaggio lo scudetto aurelio dell'arentis proprio te aurelio dell'arentis che a bari se te ne vai gli fai un cazzo del favore a napoli se te ne vai gli fai altri due cazzi del favore visto è considerato che comunque fai l'impossibile svendi e ti fai soldi a raffiche a percussione quindi tenesci con la supercazzola deficiente che al mondiale per club dovresti andare tu e non dovrebbe andare la juve c'è la juve che per dieci anni quando tutti gli altri eravate a casa a vedervi maria dei filippi o le sfide di amici e aveva portato l'italia a far entrare quattro squadre in champions tu se te ne esci con la supercazzola che per due anni tre anni quanto cazzo ne hai fatte di champions con livelli pressoché medio scarsi perché non mi ricordo tu abbia fatto finali o semifinali o quant'altro hai passato due turni forse una mezza partita decente con liverpool c'è giù di lì adesso perché la juve è stata squalificata l'anno scorso e sappiamo sappiamo e sai anche te io sono morto amico di andrea agnelli l'ho sempre appoggiato ringrazio andrea agnelli e vagli a baciare il culo soprattutto per i 94 milioni di higuain che ti sei messo in tasca grazie ai nostri soldi tenesci con la supercazzola che devi andare tu al mondiale per club ma a fare che a fare cosa a far ridere i polli a prenderti altri soldi di introiti per prendere per il culo i tuoi tifosi del napoli ai quali poi come hai fatto da anni cavani amzi clavezzi iguain adesso tocco toccherà acquara a osimen per fare cosa per fare più soldi te metterteli in tasca e prenderli per il culo non è sempre fatto quindi non fare adesso le battute del cazzo le battute idiote perché capiamo che ci siamo abituati ormai a queste due uscite siete delle merde quando sei scappato col motorino per il sorteggio poi improvvisamente l'anno scorso non era merda nessuno perché a tavolino te avevano dato uno scudetto lì erano tutti eccezionali erano tutti da prenderti come esempio quest'anno che sei ritornato a essere quello che sei sempre stato e se ne sono accorti anche i tifosi che dicono ancora come è possibile dall'anno scorso che ci siamo ridotti così era tutto calcolato solo loro non se ne erano accorti ok adesso quest'anno anche tu tenesci così come il fungo porcino aurelio cerca di avere la bontà di non martoriarci le palle veramente con le tue cazzate e cazzonerie cerca piuttosto di occuparti del napoli in maniera come per come dovrebbe essere o del bari non lo so cioè veramente cioè non ti può vedere nessuno ma non è che non ti può vedere lo juventino o quello come me che esprime una propria opinione il proprio parere cioè già non ti possono vedere i tuoi tifosi quelli del napoli quelli del bari pensa in che stato e in che condizioni vessi quindi ragazzi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di quest'altra ultima esternazione di pogba non parlo perché non ha nessun significato visto e considerato che già anche oggi e già ieri per i quattro anni della del doping era uscita la supercazzola che la juve fosse contenta di questi quattro anni in modo che potesse fare la risoluzione consensuale e risparmiasse per quello che il decreto crescita circa 30 milioni cioè ormai l'importante è la maglia cioè se la maglia è bianconera la squalifica non è sei mesi non è quattro mesi non è due mesi non è sei mesi non è diventa due anni quattro anni carriere spezzate arriva conte alla juventus agghiacciande lo mettono nel gabbiotto per sei mesi fanno mettere carriera in panchina c'è tutto quello che si avvicina alla juve magicamente subisce un qualsiasi danno stranamente poi ancora vorrei vedere perché penso che piscino anche gli altri calciatori delle altre squadre non ricordo altre provette per quelli dell'inter quelli del milan quelli della lazio quelli della roma c'è possibile che i magistrati lavorano solo a torino si pisce si fanno i controlli sulle urine solo a torino sulle feci controlliamo a torino su quello che mangiano controlliamo a torino su chi si trombano la sera controlliamo a torino ma lo so meno male che meno ma a questo punto mi viene da dire mi sorge il dubbio e vi dico meno male che c'è la juventus cazzo altrimenti giornali televisioni radio che cazzo facevate veramente mi piace questa cosa c'è senza di noi eravate dei falliti dei morti di fame ma veramente te lo dico a parte il nostro presidente che ogni tanto gradirei anch'io magari spuntasse qua e là così john quando ti capare a te quando magari non hai tanto da fare visto che la ferrari e la juventus ce l'hai sotto mano tu magari qualche comunicatino qualche uscita qualche dare un segno che ci sei ai tuoi tifosi da una parte e dall'altra visto che non si capisce mai che cazzo di fine facciate ci mettiamo i 200 milioni abbiamo pagato i 200 milioni 175 del mondo bene grazie arrivederci tutto tranquillo poi giornali attaccati televisioni ti attaccano radio radio cronisti e tele cronisti ci attaccano muto tu non ti preoccupare tu fatti i cazzi tuoi che ce la vediamo noi sul tubo magari a difendere la juventus no perché noi che non prendiamo un euro è giusto si faccia un discorso del genere ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate mi raccomando anche di questo video like iscrizioni come vi ho detto prima e condividete il più possibile e aurelio cerca di finirla e fatti due cinepanettoni in più che c'è rotto lì coglioni ciao dal vostro nick juve un grande abbraccio